commento dal vangelo secondo matteo 10 26 33 non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo è un vangelo travolgente emozionante quello di questa domenica di questo dio che ci ama così tanto che non si fa scappare nemmeno la più piccola creatura nemmeno il passero è lontano dal pensiero di dio ma nello stesso tempo così pauroso così preoccupante questa realtà della genna in cui l'uomo rischia di andare ecco se se non camminerà diciamo non nella retta via ma nella giusta maniera oserei dire parto con un piccolissimo esempio è molto banale ma di vita quotidiana tutti i nostri bimbi figli nipoti amici amano saltare sul divano amano saltare sul letto il divano e letto non sono più gli strumenti di utilizzo normale ma diventano dei bei molleggioni dove saltarci sopra nessuno di noi però grida ad alta voce i figli attenzione non saltate sul letto se non perché rovinano il letto non c'è paura che cadano sul letto ma la paura sta al di fuori del letto la caduta no non è neanche la caduta nessuno credo si preoccuperebbe di dire attenzione che cadete fuori dal letto ma cadete su un bel materasso morbido che chiunque dice ok metto intorno e lo facciamo qua tappezziamo intorno al divano mettiamo tutti i cuscini che ci sono in modo tale che se cadano fuori dal divano cadono sui cuscini quindi non è nemmeno la caduta che ci fa paura il terreno duro è vero il terreno duro si ci può far paura ma quello in realtà che ci fa proprio più paura è che la persona che sta saltando possa farsi male senza il nostro controllo nell'inconsapevolezza ecco allora che entra un po questo discorso attenzione in quale direzione andate cioè dove vi trascina il mondo dove vi porta c'è la possibilità di farsi del male consapevolmente o inconsapevolmente direi sempre consapevolmente noi siamo adulti non siamo bimbi che saltano su un divano questo andare nella genna questo finire nella discarica questo sentirsi immondizia fondamentalmente da questo gesù grida ad alta voce è come se noi gridassimo i bambini che saltano sul letto attenzione a non farvi male allora assume un senso non ci interessa come dove perché attenzione che qualche fate non vi porti a procurarvi un male tendenzialmente quello che fate è proprio un sentirsi trasportati non perché non si scelga di andare nella parte sbagliata ma perché in un certo senso tante volte ci si oppone a quello che ci fa bene io vedi giovani bisogna andare a messa a messa mi oppongo devo andare a fatima a fare un pleghigiano a quello mi oppongo devo andare in vacanza con i miei a quello mi oppongo dove c'è una sorta di genuinità di spontaneità di affetto di amore c'è una forte opposizione tante volte vado con gli amici a fumare una sigaretta vado con gli amici allo stadio vado con gli amici in discoteca perché non c'è niente di male per carità non voglio fare il bigotto ma lì non c'è opposizione noi adulti in maniera diversa facciamo credo un po lo stesso è purtroppo più facile opporsi a quello che ci fa fare un po più fatica che diamo più per noioso un pochino più per scontato perché crediamo che lì non si trova alcun bene così come non crediamo che ci si possa far male saltando su un divano così come non troviamo alcun male in altre cose l'insegnamento di questo vangelo forse prima di tutto è proprio questo a quando gesù dice tre volte non abbiate paura non abbiate paura di cose scontate interrogatevi interrogatevi che cosa ci fa veramente bene al corpo ma soprattutto all'anima e quindi siate coraggiosi siate coraggiosi di incontrarvi di conoscervi di analizzarvi nel profondo non abbiate paura di questo perché la paura fa nascere la fuga ma fa nascere anche la pigrizia la non voglia il non desiderio il coraggio ci apre a scoprire tante cose anche quelle più timorose paurose quelle più noiose le voglio conoscere lo stesso ed ecco che lì che cosa scopro scopro questo dio che mi ama infinitamente l'inglese ha la parola beloved che bellissima non ce l'abbiamo una parola che è l'amore in se stesso che viene così donata ecco noi siamo i prediletti siamo gli amati siamo i beloved da dio e la cosa importante non è ricordiamoci sempre il sì quantitativo d'amore cioè quando dico sì al matrimonio quando dico sì avere dei figli quando dico sì all'entrare in convento quando la madonna dice sì a dio quello è fondamentale quantitativa importantissimo poi la qualità dell'amore si gioca nella quotidianità giorno dopo giorno ed ecco che noi siamo chiamati proprio questo nella qualità della nostra vita giorno dopo giorno rispondere sempre a quel sì d'amore di dio senza paura con coraggio anche indagando veramente quale direzione hanno le nostre vite buon cammino